Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Sì, scusatemi se ho sto raffreddore pazzesco e non riesco a parlare, ma non è colpa mia. Siamo tornati nell'episodio settimanale di Bedrivers of Italy nella compilation che si chiama Bo. Ok, non mi ispira fiducia. Episodio numero 37. Come cavolo sia possibile, non lo so, abbiamo fatto 37 episodi di questa bellissima serie. Vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campagna. Se lo fate in lingua, cercare ed il picchio con il telecomando. Vi ricordo che in descrizione vi lascio il video originale e il link ovviamente del canale di Bedrivers. E prima che il raffreddore prenda possesso definitivamente del mio corpo, direi di iniziare. Vai! Madonna mia, ho propria voglia di vedere questi italiani alla guida. Allora, siamo a Polignano a mare, io sto morendo, andiamo. Perfetto, iniziamo malissimo, ci saranno già da censurare praticamente tutto. Intanto piove di secco, si fanno numeri, eh vabbè. Strano. San Filippo del Mela. Vediamo cosa succede, cosa succede, cosa succede. Gran numero. Però, ok, vi chiedo sempre scontato Mantua, vi chiedo scusa sempre se sbaglio la pronuncia della vostra, città, e fatemi sapere voi, la vostra città si guidano in maniera esotica. Satriano, e non è l'attaccante, è X-Inter, madonna mia, finisce male oggi. Perugia. Signor. Non si sa. Corigliano. Scalo, non l'avevo notato perché stavo leggendo il titolo, siamo matti. C'è il titolo, il posto. Reggio Emilia, mi sa che ci hanno tamponati, eh. Ha intuito. Bene. Montano. No, ma tranquillo. Tranquillo. A4 Milano. Cosa combinano? Vai. Fantastico. Cusano, Milanino. Calma. Calma che io qua non ci arrivo stasera. Non ci arriva stasera, ve lo dico. Madonna mia, un medico. Andiamo avanti. Intanto, Napoli. Paura. Cosa mi combina la Napoli? Vabbè, è un numero tranquillo, dai. Ma sì. Or Bassano. Or Bassano. Come? La strada impronunciabile. Che non posso dirla. Sovere o sovere, sempre chiedo scusa. Non so. Fai come vuoi. Non mi ha visto. Non ti ha visto? È cieco. E questo? E a Torino si fanno inserimenti all'interno. E tu è scemo, dai. Chiedi scusa, chiedi scusa, ma intanto. Ceto. Torino. Vabbè. Genova. Non ho parole. Santa Maria Maggiore. La precedenza. Niente. Isola d'Elba. No, signora, signora, signorina. Per cortesia. Non dica queste parole che dopo devo perdere sei ore per editare. Grazie. Brescia. Ma non c'è l'audio qua, quindi chi se ne frega. Gran numero, comunque. Gran numero. Gran numero. Non ce la faccio più a respirare un medico. C'è lo stop. Siamo a Pontina. Lui va dritto. C'ha ragione. Asti. Lo so. Voleva dirmi l'infiancata? Come? Eh, calmi. Rivoli, niente. Sarà un bip continuo. E vorrei capire, ragazzi, chi cacchio gli dà la patente a questa gente? Ma non solo in determinate città, ma in tutte, visto che stiamo in giro per l'Italia qua. Ve capisco, una sola. Ok, Milano. Oh no. Milano. Perdono il rosso. Illuminate i numeri all'esterno. Sì, prende tutta la scia. Tutta la scia. Eh, niente. Bandiera gialla, la safety car. Non può superare più. Eh, non capita. Sì, è rientrata la safety car. È rientrata la safety car. E vai con il rosso. Bravo! Pitonto. Numeri. Genova. Sono le strisce, giustamente. Si fermano. Qualcuno altro? No. Eh, infatti. È così. Torino. Ho paura. Rosso. Eccola. Va bene. Solaros. Quasi contatto. Montevarchi. Rannumeri. Vabbè, si è matti questi. Benascus fa numeri. Cosa fa questo? Eh, lui esce. Fa la retro. Fa quello. No, Bonnie. Non dite queste parole. Solito lover o lover. Non lo so. Fai quello che vuoi, tanto. La strada è tutta tua. Roma. Cosa ci combinano, amici di Roma? Cosa sta facendo questo? Numeri. Vabbè. Coriano. Questo rallenta. Questo sorpassa rallentando. Numeri. Vabbè. Dezzo di scalve. Siamo in bici. E quell'altro faceva numeri strani. Vabbè. Nuova milanese. Ho visto un rosso. Ho visto un rosso. E c'è la moto che... No, scusate. Non ho capito questo. È il motivo. Cioè. È andato qua. Ha girato a destra. Passando con il rosso. Per andare a destra. Ma scusa. Non potrà tagliare direttamente di qua. Facciamo prima. Passare con il rosso uguale. Ma almeno... Vabbè. Lasciamo perdere. Andiamo avanti che è meglio, miss. Bari. Torniamo al sud. Vediamo cosa ci combinano. Gran numero. Gran numero. Vabbè. Ma ci sta. Ci sta. La Spezia. Non dai la precedenza? Non dai la precedenza. Grande. Un mito. di Zasco. Compare qualche animale. Eccolo. Ciao. Piana. Sta' attento, eh. Vabbè. Monte Giorgio. C'è un elicottero molto basso. Molto basso. Molto basso. se si schiamata su una casa. No? Mi sa di atterrare lì? Con la finestra... Con la portiera aperta. Vabbè. Portellone aperto. Messina. Occhio al Doggo così. A doppio Doggo. Ciao Doggo. Occhio che cadi. E dai là. Vabbè. Brienno. Numero strani. Chi? Uh. Non so cos'era ma ha fatto un numero pazzesco. Si è salvato la vita di poco. Intanto Rivoli. Wow. Bel fulmine. Mancava da poco concludere con un fulmine. Ravenna. E vabbè. C'è Thor nei paraggi insieme a Zeus. Mi sa perché qua va bene. Dopo abbiamo visto Zeus e Thor in questa bellissima compilation. Dopo numeri strani possiamo concluderla qua che è meglio. Vi saluto e vi ringrazio. Spero che questo video molto strano con sorpassi e robe strane vi sia piaciuto. Se è così vi riconoscerò un like. Un commento, iscrivano e attivate la campanita. Se non lo fate vengo a cercare e vi picchio con il telecommando. Non ce la faccio più. Vi ricordo appunto di iscrivervi qua su Instagram qua su YouTube e se volete anche su TikTok. Io non posso dirvi altro che non so quando non so come non so perché ma l'importante è dire ragazzi ma la patente la diamo a tutti? Evidentemente sì. No. In uguale. Ciao e Madonna mia.